buongiorno come state nuovo video vlog dunque questo video vlog di chiacchiericcio perché no allora dunque volevo dirvi semplicemente che stamattina sta di nuovo facendo un bel finalmente un bel tempo quindi sono molto contenta e vai quindi che dire tra poco farò un video di trucco non lo so se riesco però metterò al massimo una riga di eyeliner mascara ovviamente un mistrucco e dopo la riga di eyeliner mascara metto un po di il mio definisco le sopracciglia tutto lì e niente quindi voleva essere solamente un video di trucco ovviamente per mettere la mascherina anche se non esco di casa per farmi vedere come mi trucco di solito anche se volte faccio tutta la base intera base viso intera però alla fine fine come come dico sempre di mia nonna ma anche voi su youtube non c'è base viso che tenga perché qui c'è sempre sul naso lo sfregamento della mascherina quindi non commento e niente ragazze per fare una breve chiacchierata con voi oggi non esco di casa perché tanto con questo virus non si sa mai virus coronavirus meglio evitare di fine di casa qui sotto ciò almeno quattro prodotti no neanche tre prodotti per la casa per la cura della persona sì aspettata che riguardo e io esatto sì mi sto guardando qua mi sto toccando perché sono solamente tre prodotti in croce e appena a posto vi farò una recensione dei prodotti che ho terminato sia per la casa che per la cura della persona poi a breve vi farò altri video che non ho idea se vi li faccio subito o meno però almeno li ho già registrati e poi vi li monto con la musichetta magari anche se non li taglio o li taglio almeno c'è la musichetta così non vi annoiate anche se è preso muco già dovrò mi staccherete il video non è importanza però a me piace molto chiacchierare questo è poco ma sicuro già come sto adesso sto molto bene grazie ragazze sto bene e finalmente un pochettino mi sono riavvivata dopo questo tormento della sonda nel mio stomaco è già così quindi cosa ho fatto stanotte nulla mi ho guardato un paio di video su youtube mi ho guardato anche una live di adriana home sì lei è simpaticissima l'adoro e poi ovviamente ho guardato altri video oltre ai suoi e poi mi sono sono scesa neve non sono profondo perché ero già stanca sono alta a letto e niente quindi nulla ragazze volevo essere solo un video piccolino non me ne vogliate a male ma lo so che forse può essere un video senza senso ma volevo solamente chiacchierare un po chiacchierare un po con voi e farvi compagnia e cos'altro volevo dirvi che tra poco farò un video di trucco non so se ve l'ho detto ve lo dico di nuovo e basta bacio a presto ah se vi è piaciuto questo video scusate mettete like commentate e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video anche se c'è poco da dire ma ciao